Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del The North Face Hydra da 38 litri, uno zaino che ho utilizzato per tutto l'inverno 2021, uno zaino che ho utilizzato davvero in tantissime escursioni, che mi è piaciuto, ma che presenta anche dei difetti, che vado a raccontarvi nella recensione completa. Inizio riportandovi qualche dato fornito dalla casa. Come dicevamo, Hydra 38 litri, quindi uno zaino da 38 litri, uno zaino a sacca unica, nel senso che non abbiamo ulteriori aperture se non quella superiore, non è neanche diviso metà, uno zaino che ha in dotazione il rain cover per poterlo andare a coprire, anche di un bellissimo colore rosso, devo dire la verità. Uno zaino che pesa attorno al chilo, è disponibile in due taglie, SM e la taglia L, è uno zaino che inizio a descrivervi, visto che ci siamo, dalla parte posteriore che abbiamo qua. Parte posteriore dove troviamo questa enorme tasca, che vado ad aprirvi, dove noi possiamo andare a riporre dentro quello che possono essere impermeabili, indumenti bagnati, nella fattispecie è dato proprio indumenti bagnati perché troviamo anche tutta una parte forata che, oltre a dargli la possibilità di elasticizzarsi, fa uscire anche l'acqua, quindi noi possiamo andare a infilare dentro gli indumenti bagnati e questi con la tempo possono andare ad asciugarsi e a disperdere l'acqua. È molto capiente, ci sta dentro tranquillamente anche due o tre impermeabili, io ci ho messo dentro di tutto e di più, è super comoda. Su questa parte qua troviamo una fettuccia nella parte alta e nella parte bassa per poter andare a inserire in verticale i nostri bastoncini. Non ce ne sono due, attenzione, quindi entrambi i bastoncini vanno inseriti soltanto da una parte. Inoltre troviamo due piccoli fettucce qua davanti, una e una due, dove possiamo andare ad appendere qualcosa, con un moschettone si può aggiungere qualcosa. Continuando, una cosa che mi è piaciuta particolarmente nella parte bassa è che troviamo queste due fettucce con clip, dove possiamo andare ad aggiungere tenda, materassino, sacco a pelo, quindi possiamo andare ad ampliare quello che è il volume singolo dello zaino. Infatti secondo me andando qua sotto a riporci una tenda, e se non abbiamo degli oggetti particolarmente grossi, con questo zaino possiamo farci anche dei trekking di due o tre giorni in tenda senza tanti problemi. Per quanto riguarda il cappuccio superiore, vi giro lo zaino, abbiamo una prima tasca bella grossa, davvero bella grossa, ci sta dentro tantissimi oggetti, poi tasca classica, non ha all'interno un portachiavi perché c'è la tasca sottostante, però è molto molto grossa davvero. E come vi dicevo, andiamo a chiuderlo, aprendo, abbiamo anche la tasca interna, dove in questo caso io sono andato a riporre il rain cover. Qui abbiamo il portachiavi, funzionano bene, sono molto molto grosse, questo mi è piaciuto veramente tanto, ci si possono riporre davvero tanti oggetti, soprattutto quelli che si vogliono avere di primo accesso. Nel particolare poi, la parte superiore è completamente staccata dallo zaino, è attaccata con queste fettucce, quindi noi possiamo andare a riempire anche tanto, tanto, tanto lo zaino, e questo qua, come potete vedere, andandolo a riporre sopra, può stare anche a molto alto, quindi possiamo andare a riempire lo zaino anche di più rispetto a quello che è il suo volume complessivo, andando a riporci anche sopra qualche altro oggetto. Visto che siamo qua sopra, vi parlo della chiusura. Allora, la chiusura è classica, come di tanti altri zaini, prendendo e tirando lo zaino si apre, e poi tirando quello che è il singolo cordino, lo zaino si chiude. Una chiusura che funziona bene, non si è mai inceppata, e per quanto riguarda la chiusura totale dello zaino, troviamo questa fettuccia che con la sua clip possiamo andare ad attaccare alla tasca davanti, di tirare, e così chiudiamo lo zaino. Questa cosa va bene, però secondo me si poteva fare meglio, nel senso che se noi abbiamo qua sopra qualche oggetto, o non vogliamo andare completamente ad aprire lo zaino, molte volte è abbastanza difficile riuscire ad aprire solo la tasca davanti, quindi avessimo avuto una clip per la tasca davanti, e un ulteriore clip per chiudere la parte superiore, forse sarebbe stato meglio. Questa clip però ci dà modo, come dicevo, anche di poter andare a mettere qua sopra un'ulteriore giacca, una corda, e poterla fissare per non perderla. Vado ora a parlarvi della parte anteriore dello zaino, dello schienale. Iniziando, come potete vedere, dalla retina. Questo è uno zaino a rete, in mezzo ci passa tranquillamente la mia mano, è bello bello distanziato, uno zaino che non fa sudare, utilizzato anche in giornate veramente veramente calde, non mi ha fatto per nulla sudare. Uno zaino che ha anche tutta la struttura in alluminio che corre ai lati, quindi sostiene molto bene il peso, lo distribuisce molto bene. Uno zaino che, come potete vedere, continua la corsa della rete fino ad abbracciare la zona lombare, la cinghia lombare. Questo ci permette di scaricare molto il peso sulla fascia lombare. Io su questo zaino ci ho portato tranquillamente anche 10 kg, benissimo scaricati sulla fascia lombare. E sempre sulla fascia lombare troviamo l'interno, che anche questo risulta essere molto traspirante, sia da una parte che dall'altra, e due comode tasche, anche da loro una un pochino più chiusa, diciamo, dove magari andare a riporre uno smartphone, invece l'altra fatta a rete completamente traspirante. Tasche dove ci sta dentro tanta roba, ci sta dentro un telefono, un'action camera, ci sta dentro di tutto e di più, senza nessun problema. E si chiude dal davanti con una semplice clip, anche a pieno carico, non si è mai andata ad aprire, non ha mai creato problemi. Passo ora ad iscrivervi lo spallaccio. In questo caso all'interno, anche qua, troviamo una parte bella morbida, comunque a contatto con la pelle, allo stesso tempo molto arreggiata. Lo spallaccio scarica anche lui bene il peso, non crea problemi, non crea irritazioni. Troviamo la clip per poterlo chiudere sul petto, con all'interno il fischietto. E mi ci sono trovato veramente bene. Sono facilmente regolabili e soprattutto sulla parte superiore troviamo questo sistema, il Dyno System, che in pratica come funziona? Noi abbiamo solo da una parte la possibilità di andare a tirare il cordino. E questo serve per regolare entrambi gli spallacci. Questa cosa qua sinceramente non mi è piaciuta molto. Nel senso, funziona, perché comunque una volta chiusa la clip, questa rimane al suo posto, anche con 10 kg, non si muove. Però se noi vogliamo avere magari uno spallaccio un pochino più tirato dell'altro, perché così lo zaino ci è più comodo, questo non è possibile. Perché naturalmente se noi lasciamo un pochino di più di filo, di fettuccia da una parte rispetto all'altra, lo zaino andrà naturalmente a equilibrare le due lunghezze del filo. Quindi non è possibile avere una parte un pochino più lunga da una parte e più corta dall'altra. Almeno che non troviamo degli escamotaggi, tipo andare a mettere un qualcosa che fermi il filo, ma a quel punto andremo a cambiare la natura dello zaino. Divise. Concludo la descrizione dello schienale parlandovi della possibilità di poterlo naturalmente alzare ed abbassare. È abbastanza complicato. Non complicato nel senso che il sistema è difficile, più che altro è duro. Però sinceramente io lo vedo come un appunto a favore, perché di solito lo regoliamo una volta nella vita quando compriamo lo zaino. E il fatto che sia duro evita che questo si vada magari a smollare quando abbiamo tanti chili addosso. Infatti l'ho utilizzato bello aperto per poter regolarlo in base alla mia altezza e non si è mai mosso anche con i 10 chili che mi sono portato dietro. Per quanto riguarda sistema di idratazione, troviamo all'interno la possibilità di mettere la nostra vescica tipo camelback con la possibilità di far uscire da qua in alto la prolunga e agganciarla sullo spallaccio così da averla vicino. E cosa molto interessante da cui deriva anche il nome idra di questo zaino è la possibilità di riporre e poter prendere in autonomia la borraccia dalle tasche laterali. Infatti troviamo due tasche laterali molto elasticizzate, molto grosse, dove prenderle non è così difficile, ma risulta anche molto semplice riuscire ad andare a inserirle dentro in autonomia senza doverlo chiedere a nessuno e senza dover toglierci lo zaino. Ed essendo molto grosse anche come tasche, ci si può infilare dentro anche di più rispetto a una singola borraccia. Possiamo infilarci dentro una borraccia e qualcosa in più o un cavalletto fotografico che è più grosso. E questa funzione la troviamo sia nella tasca destra che nella tasca sinistra, quindi in entrambe le tasche. Vi parlo un attimo della qualità dello zaino. Qui troviamo una qualità The North Face che è tipica del marchio. Qui troviamo delle fettucce di alta qualità, anche queste qua che vanno a comprimere lo zaino sui due lati funzionano molto bene. In generale io veramente l'ho utilizzato in tantissime escursioni, non ha neanche un graffio. Forse in questa colorazione nera si sporca molto facilmente, però si sa anche la colorazione blu, quindi nel caso prendete quella se vi piace di più. In generale davvero non ho avuto nessun problema, cioè questo zaino ha credo una ventina di escursioni, se non di più addosso tantissime ore, ed è come nuovo. Perciò in conclusione vi consiglio questo zaino, sì a me è piaciuto, è soprattutto polifunzionale, semplice fatto che va bene sono 38 litri, ma anche se lo usiamo in escursioni giornaliere si può anche stare. Forse è un po' grossino, però dipende da che cosa ci portiamo dietro. Per trekking da rifugio a rifugio, veramente ottimo, super ottimo, anche in periodi di forte caldo dove si suda parecchio. E come dicevo, grazie a possibilità anche di attaccare qua sotto una tenda, eccetera, possiamo andare ad ampliare quelli che sono i suoi ambiti d'utilizzo, considerata anche la possibilità di apprendere sopra una corda. Perciò ragazzi, nella speranza di essere stato esauriente ed esaustivo anche per questo video, io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao! Ciao!